si sta riprendendo qua dai dai addome addome dai ci siamo? vai Piero, il posa vai Don ci siamo qua qua siamo uguali vediamo io qua lo temo di brutto qua ci siamo aspetta che carico come velocità è avanti però eh si vede il terrore nei miei occhi? si il terrore un doppio muscolo testa a testa si, così non è che mi becco qualcosa testa a testa così dai dai così si fa uno contro l'altro piano piano no, no, così devi fare così esatto posa un po' di là voglio vedere su Facebook per me mi addio che sei fa con il mio no, per me mi addio ma sei pazzo io lo rendo subito domani si, si, si tienila, tienila donna vai, vai io lo prendo dai 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 grande Don Tommaso applauso applauso adesso poi ci sarà la proclamazione io dovrò stare testa bassa e lui grazie in ginocchio la colla ma dai 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 ci fa anche questo grazie 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 grazie